ecco le quantità vedi quanti ce ne sono questo è l'inoculo che facciamo di cuia ci hanno omaggiato per iniziare questa prova di autoproduzione di lombi compost si scuotiamolo lì nell'altro contenitore il nostro metodo se li tratti in in un certo modo per forza devi avere queste fai col dito uno ragazzi buon humus a tutti